Natale è la festa della luce, ma la luce la possono capire solo le talpe e tutti coloro che sono stati al buio. Il profeta Isaia dice il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce e nella notte di Natale ci sono dei pastori che vegliano sul loro gregge al buio e giunge un angelo e la luce li abbaglia. I pastori ebbero timore, ma l'angelo disse non temete, vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore. Questo è il segno, vedrete un bambino deposto in una mangiatoia. La luce ha bisogno di un lampione, di un lucernario, di un candeliere e Dio sceglie una donna, Miriam Maria di Nazareth, un contenitore meraviglioso, regale, per accogliere la luce che egli vuole mandarci. E' il figlio di Dio incarnato, risplende la madre che dà alla luce il suo bambino, quello che adoriamo e che illumina ogni uomo anche la notte della nostra pandemia e del nostro cuore in questo Natale. Basta una candela per fare Natale quest'anno. Gesù in questo Natale ci sarà e tu, Santo Natale. Gesù in questo Natale quest'anno.